Primo obiettivo giocare bene. Così il Citi di Biaggio nel primo giorno di Raduno in vista delle amichevoli con Argentina e Inghilterra. In programma venerdì 23 a Manchester e martedì 27 a Londra. Due impegni importanti per ripartire dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Di Biaggio vuole una squadra che giochi al calcio, che provi ad imporre la propria filosofia in campo. Il primo obiettivo è quello di giocare bene, di giocare a calcio, di cercare di imporre il nostro modo di giocare. Se si giocano bene 10 partite, secondo me 8 si vincono, però se mi chiedi se il risultato è la cosa più importante, ti rispondo, deve essere una conseguenza. Oggi, seduta di lavoro pomeridiana per gli Azzurri, presente anche Angelo Gbonna, che era stato convocato in attesa di valutare le condizioni di Giorgio Chiellini. Condizioni che, dopo gli accertamenti del caso, hanno portato Chiellini a lasciare il ritiro della Nazionale questa mattina per proseguire le cure con il proprio club. All'allenamento ha assistito anche una famiglia di Norcia, vincitrice della Tombola andata in scena nel corso della trasmissione Un Gol per l'Italia, in onda lo scorso 22 maggio sul Rai 1, con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno del programma Il Calcio Aiuta, ovvero a favore delle società appartenenti ai comuni del centro Italia, colpiti dal terremoto del 2016. Ok. 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 Ciao